E ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, quest'oggi faccio un piccolo video breve per scop... per scoparvi Questa... quest'oggi faccio un piccolo video breve per spiegarvi che cos'è Kik Kik è una piattaforma streaming dove potete trovare un sacco di gente che streama cazzi e mazzi Un po' come Twitch, ma cosa ha di differenze da Twitch? Che semplicemente potete fare più o meno quello che cazzo vi pare Come appunto mettere, che ne so, una... me che cago in alto a destra nel banner del coso Insomma è una piattaforma un po' più libera, si può scrivere quasi tutto Naturalmente ci sono dei limiti anche qui, però secondo me è molto meglio dal punto di vista sia da chi streama Che da chi guarda in confronto a come sta diventando Twitch ultimamente E vi lascerò qui sotto, e durante poi sarà presente in tutti i miei video, il link alla mia pagina Kik Dove vi invito a venire a vedere live dove parlerò di doppiaggio, dove farò anche gameplay, dove farò anche letture Dove insomma farò un sacco di cose che riguardano la voce, anche questa volta ai videogiochi perché comunque ci sta E magari farò anche qualche doppiaggio e faccio vedere come faccio i miei doppiaggi Che tutte le volte vengono riprodotti su questo canale E niente, tutto solo questo, ci vediamo su Kik, lo spero, al prossimo video Kik, lo spero, al prossimo video